Basta, basta, basta! Mi insegno o no? A che fare? Suona la batteria? Ah si! Suona la batteria? O utilizzare il bacchetto? Eh, il bacchetto. Il bacchetto. Allora, i bacchetti si usano così, guarda, sei attento. Però seguimi bene, eh. Che l'altra volta non stavi molto attento. Allora, la prima bacchetta va appoggiata, mano aperta, su questo lato della mano, vedi così? Così. Il pollice tiene fermo così, lo dice qui sotto, e appoggiata sul dito anulare, bellissima, così, perfetto. Deve essere però, deve essere ferma, bloccata, questa non si deve muovere. Non si muove. Non si muove, questa non si deve muovere, capito? Ok. Altra gente, invece, la usa di maniera diversa. Invece di appoggiarla così, la appoggia sopra. Ah, bello. E con il mignolo si tiene più forte qua. E poi sempre ferma, deve essere. Ok. Ti ricordi? Sì. Perfetto. L'altra bacchetta, invece, si appoggia, così, vedi, si appoggia, e si mette veramente lungo il dito medio, così, perfetto. E il dito indice si appoggia sopra. Qua. Si è pure. Bene. E il pollice tiene tutto quanto fermo, vedi così. L'altra cosa importante è che le punte devono stare perfettamente avvinate. Ah. Questa bacchetta. Deve essere, si deve muovere dritto per dritto, così. Ah, vale. Così. Non devi fare questo, devi fare questo. Così. Ora, per vedere se hai ben capito, per sapere se sei preparata, bisogna fare la parola del pisello. Pisello? Tu vedo? Ah. Vedo? Perfetto. Devi essere velocissima. Cioè, per capire proprio quanto è, quanto è preciso, vedi? Non sei più bravo, sono più bravo. Vedi? Ah, è caduto. Si è pesato, è rimasto pesato bene. Ok. Hai capito, insomma? Sì. Sei sicura? Sì, sì. Hai imparato? Sì, grazie. Mi piace. Vi saluto, ciao. Ciao. Ciao.